Se siete appassionati di calcio, tennis o basket, vi invito ad entrare nel gruppo Telegram Il Druido. Vi ricordo che il gioco è vietato ai minorenni e che dovete giocare senza esagerare. Link in descrizione. Allora, il buon Fabio non c'è. Io ho impedito di vedere insieme a me questa partita perché ho scoperto che porta a sfida. No, sto a scherzare, non c'è stava de suo. Ma detto questo, stasera c'è Roma-Torino di venerdì sera. Ragazzi miei, io non oso immaginare quello che potrà succedere a questa partita. Gioie os madonne, lo vedremo in questa nuova live reaction dopo la sigla. Vai. Puzzo de merda. Noi siamo membri di Caz365. Ha rotti i coglioni. Ecco lì. Partiti. Vogliamo il gol di Manolas. Corcazzo. Ma quando lo fa? Anzi, ma è capace che lo fa perché tanto il fantacarcio ormai per me ha nato. Non mi dico che sei ogni al primo tiro in porta che... Veramente te... Poi sei pure in ex, capirai. Portacci tua. Portacci tua. Dai. Vaffanculo. È angolo però, mi sa. Guarda che ha fatto una ingolana. Ma voi state embriachi stasera, eh. No? No! Che cosa ha parato? Che cosa cazzo ha parato? Mamma mia, sempre lui. Oh, sempre lui ci salva il culo. Che cazzo di parata che ha fatto? Oh! Madonna mia! Madonna mia! Questi si stanno a mangiare peggio. Ah, pensavo rigore. Già gli stava bene. Sanno a giocare meglio loro. Hanno rotto il cazzo, hanno rotto. Oh, niente. Niente. Cazzo di gol di capoccia. Niente. Sì, vabbè, questo sta sempre per terra e muore. Mo' 30 secondi e si rialza. Come niente fosse. Fammi vedere che cazzo ti si è fatto, dai. E so' 20. 20 carci d'angolo. Oh, ne avessimo fatto uno decente. Nazione pericolosa tu non l'hai creata. Palla al portiere. Tutto è così. Tutto è così. Che schifo. E non puoi sbagliare quei palloni. Sta da solo. Mamma mia, ha fatto un altro miracolo. Buttala via. E so' due. E so' due parate. Porco d'inci. Che palle, però. Oh, che palle. E dai, guarda quest'altro qua. Oh, stasera anciampi che anzereggia in piedi. Mamma, che palle di merda. Dai, 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 dai. Eh, che cazzo. Un gol di capoccia in serie A. Riuscimmo a fare uno. Guarda che ha fatto un decente. Sì. Eh, vaffangulo. Eh, era buona però, vaffangulo. Tira, tira. Tira, tira. Eh, coglioni. Vogliamo il gol di mano. L'ass. Oh! Il gol di mano l'ass l'ha segnato. Cioè, ma fermate. Ma li mortacci tua, ma mo' che il fantac... Gli hanno dato. Cioè, mo' che non mi serve un cazzo al fantacarcio. Li mortacci tua, segni. Sto testa di minchia. Grande, no, grande, perché... Se non si è sbloccava sta partita. Però poteva segnare qualsiasi altro giocatore. Me ne fregava un cazzo, tete. Eh. Ha segnato davvero. Ci posso credere. Cross. Bellissimo. Uno a zero. Ci serve come il pane sta vittoria. Come il pane per terzo posto. Però sì, uno stronzo. Resti uno stronzo. Eh. Guarda che gol che ha fatto. Da attaccante d'area. Gli fa una pippa, chic. Dagli comunque, eh. Dagli! Che cazzo. Bella. Oh, chic. Li mortacci tua. 40 milioni. 40 bombe. Li mortacci tua, oh. Oh! 2 a zero. Tagli! Pure tu, li mortacci tua, oh. Tutti quelli che c'è al fantacarcio. Nada a fanculo. Eh. Dei tanti, oh. Grandissimi, però. Grandissimi. Sta vittoria ci serve come il pane. Ecco. Sì! Dai, però. Devi essere rapido. De capoccia, de capoccia. Vaffanculo. Dai, 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 dai. Spaccagliela la porta. Spacca. Mamma mia. Ah, che cazzo? Vaffanculo. Guarda che ha fatto. Guarda. Li mortacci tua. Mamma, con la lonna è inguardabile, oh. Gua, 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 guai, stava regalar gol, sto deficiente. Sciatelo fuori. Fanno pure entrare, oh. Mamma mia, fa più danni della grandi, eh. 8 contro 2. 8 contro 2. 9 contro 0. Fallo. 3 3 3 Dai che è finita Fischia Fischia Dai che gliel'avevo fatta Vaffanculo Dai che stiamo tranquilli